Adesso abbiamo un collegamento da fuori con Massimiliano Cozzani. Buongiorno Cozzani, PSA, riparliamo di Porti. Riparliamo di Porti, prometto che mi scuso di non poter essere lì, ma proprio problemi personali non mi hanno impedito, era da venire lì per altri motivi. L'intervento più che altro era continuare in questo senso di positività. Pur riconoscendo molte delle note che sono state fatte da chi ha preceduto, perché è un momento difficile per chi vuole fare questo tipo di lavoro, soprattutto in Europa. Per quanto riguarda il lato italiano, la serie di lavori in corso, anche qui, diciamo che fa il pari per noi terminalisti con la confusione che c'è a livello marittimo, che anche chi è notevole e deve essere gestita. Per cui quello che presenterò è proprio un business case, anzi mi scuso la presentazione l'ho preparata in inglese, ho detto non si sa mai, di una nicchia, una super nicchia del nostro lavoro che pensavamo potesse essere di interesse per chi ora è in industria, importatori e esportatori, se permettete, e dare anche un certo contesto per cui dove si inquadra questo tipo di attività. Ecco, se ha ovviamente il primo gruppo terminalistico mondiale, siamo molto attivo in Asia, nelle Americhe e in Europa, abbiamo questa regione Euromed dove siamo noi e in Italia in particolare abbiamo due termini alla Genova e uno a Venezia. che il prodotto di cui parleremo si inquadra nella realtà genovede, che basta vedere questa cartina, noi siamo con i due termini, l'uno nel porto antico sulla destra e quello grande che vedete nella foto ha a volte riparato. C'è da dire che proprio per decisioni anche commerciali il nostro prodotto sul centro Europa coinvolge tutti i termini del porto antico e non solo i termini di PSA, noi colleghiamo tutti una decisione quasi, diciamo, di comunità, chiamiamola così. Dunque, noi siamo Gateway Termina, dunque come sapete il Gateway Termina è una gestione completamente diversa da un porto di trasbordo, dunque noi ci focalizziamo proprio, siamo la chiave delle entrate e uscite delle merci del territorio italiano. La percentuale di trasbordo da noi è meno dell'8%, dunque c'è proprio un focus e dunque tutte le procedure devono seguire questo tipo di lavoro. Buoni ultimi, qualche anno fa ci siamo anche noi guardati attorno al core business e cercare di risalire nel nostro caso sulla supply chain, dunque una integrazione a monte è quello che PSA sta cercando di fare. Chiamandolo a Porta Plus… Cozzani, scusate, l'interrompo, non stanno scorrendo le slide? Ah no? E poi deve farla tutto schermo. Ecco, la facciamo tutto schermo? Scusate, ti chiedo anche aiuto qui. Noi siamo ancora alla prima slide… Con una bella nave e una barchetta di un pescatore? No, allora non va bene. Chiedo al collega se mi può aiutare. Sono buoni quei pesci. Vedete qualcosa in più? No, siamo sempre fermi alla… Eccolo, adesso abbiamo Cozzani in piena… In piena visibilità, meglio per voi, vediamo. Beh, possiamo rimanere anche così? Basta che poi le slide scorra… No, eh, no. Così lo vedete? Adesso sì. Eh, allora siamo così qua. Eravamo arrivati alla realtà, diciamo… Ok. I nostri terminal, Porto Antico sulla destra, terminal dove c'è anche uno dei nostri due, e poi a sinistra dove sono attestati i treni per il centro Europa. Questo è un po' il nostro tipo. Parliamo dei gateway terminal e di questa nostra integrazione a monte che stiamo cercando di fare dappertutto. Tra l'altro anche a livello europeo questo coinvolge anche molto la Polonia che è un'area dove PSA ha interessi anche intermodali in questo momento. Dunque intermodalità è tutto quello che abbiamo detto. Più interessava per me dire sostanzialmente che dalla nostra esperienza, nonostante i problemi, il concetto che la collega di Oceanogate ha sottolineato prima, questa resilienza c'è, diciamo è un prodotto sostenibile che ci viene riconosciuto nonostante le crisi che comunque fanno abbassare redditività e anche perdere volumi. Però questa resilienza c'è, diciamo è un momento che anche in un momento di difficoltà notiamo che c'è, soprattutto sul centro Europa l'altro concetto fondamentale è la diversificazione del rischio, perché i nostri concorrenti sono nord-europei e essere con tutti i piedi in una scarpa sola per qualche ricevitore o caricatore inizia a essere un po' pesante, viste appunto tutte le disruption che ci sono anche in Europa. Detto questo abbiamo tirato giù un dato, comunque è a long way to go, c'è tanta strada ancora da fare, perché se prendiamo solo la nostra area, anche più allargata possibile, il range Savona-Livorno, pur con i picchi di cui conosciamo alcuni termini, hanno incluso noi, però la media è ancora sotto il 20%, dunque è ancora poco, probabilmente c'è tanto da fare su quest'area, dunque siamo anche qui per quello. L'altra area che coinvolge il nostro caso è l'area Reef, anche qui è una nicchia, è una super nicchia per quello che ci riguarda, perché anche qui guardando qualche statistica al netto dei trasbordi, in questo caso anche dei vuoti, il Reef rappresenta per il traffico marittimo un 10%, dunque è un'area che noi, parlando di tutti i porti italiani, dunque bisogna essere dedicati, focalizzati, è un'area importante per i nostri clienti. Dunque qui c'è il discorso di hardware, dunque il termine deve essere organizzato tecnologicamente, e soprattutto la parte soft, il personale, specializzazione, e soprattutto direi procedure generali e per singoli prodotti. Dunque questo è un po' l'antefatto su cui si inserisce appunto il nostro network, che è ancora piccolino rispetto ad altri, però ecco ci stiamo lavorando e ora abbiamo Basilea, ormai che è un prodotto abbastanza maturo, e lo Stoccarda che stiamo iniziando proprio adesso. Il discorso del caso di studio è inserito nel prodotto di Basilea. Sostanzialmente noi abbiamo preso un'innovazione di prodotto, che come sappiamo, prima di diventare servizio, le innovazioni di prodotto devono essere un po' massaggiate, e di un'innovazione che tutta prima sembrerebbe un uovo di Colombo, un carro con un power box, una mega batteria al centro, che si autoricarica producendo energia cinetica da converte in energia elettrica, dando la possibilità di collegare dei rifer. Dunque per i terminalisti il rifer tipicamente su treno poteva essere trasportato solo con dei genset diesel, dunque poco sostenibili e anche con innumerevoli problematiche di manutenzione e gestione. Questo sembrava una cosa carina da verificare. In effetti noi abbiamo fatto dei test all'anno corto, creando del carico dummy, abbiamo messo dei sacchi di sale, abbiamo inserito delle sonde dentro il contenitore per verificare la temperatura. Ovviamente la legge di Murphy è sempre lì, durante il test la locomotiva si è rotta, è stato due giorni fermo il treno. In realtà questo è stato positivo per il test perché abbiamo notato che il power box ha continuato a fornire energia al contenitore per questi due giorni, arrivando al 50%. Considerando che era un rifer a meno 18, questo qui ci ha dato una certa sicurezza, a quel punto abbiamo inserito tre di questi carri nel nostro treno per Basilea, dove sono tuttora. Da considerare che i nostri concorrenti in quell'area sono le barge, sono dunque le chiatte diesel che vanno nei porti del nord Europa, sia Hamburgo che Rotterdam e Anversa. Ovviamente le tariffe sono ben diverse, l'impatto è ben diverso, ma questo è un refrain che per noi che operiamo in quell'area è conosciuto, i nostri costi e per la lunghezza treni e per un sacco di altri motivi sono molto più alti di quelli dei nostri concorrenti. Dunque in quel senso il terzo valico dovrebbe aiutarci tutti a abbassare, a ridiventare un po' competitivi. Comunque questo è un investimento a medio termine, costosetto, però riteniamo che abbiamo un certo futuro. Io personalmente ci credo molto e abbiamo dunque iniziato a approcciare le varie realtà, l'export svizzero tipico foodstuff e latticini e l'import tipico dall'Asia, prodotti congelati e verdure. E dunque questo qui ovviamente, il prossimo passo ritengo che sarà il Pharma, cui abbiamo delle idee anche di certificazione ad hoc. Ovviamente tutto ciò appunto diciamo. Il prodotto è una cosa, noi l'abbiamo dovuto condire con procedure operative, priorità documentali, attenzione alle ricariche eventuali per questi tipi di apparecchi, che è ovviamente training per staff, che fanno il prodotto. Ecco, il prodotto è diventato ora un servizio che noi comunque riusciamo anche a monitorare da remoto, non tanto il livello della temperatura di cui noi non siamo responsabili legalmente, ma quantomeno il fatto che la macchina funzioni e fornisca energia durante il tragitto. è tutto un network collegato e direi che su una tratta punto-punto come la nostra, questo sia un prodotto interessante, ci stiamo investendo tempo e denaro, ma con certi riscontri anche. Questo era un pochino l'ambito della presentazione e vi ringrazio. Grazie mille Gozzani, grazie.